E' un po' di tempo! Squadre che prendono posto in campo! Fazzamogli sentire tutto andato! Go! E' un po' di tempo! Inizia! Fazzamogli sentire tutto e convo' di nuovo! Bello! �i! Vai, 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 to me! Vai con la caccia del palito! Oh! Oh! Oh, che sentito! Oh, che sentito! E' stato il palito! E' stato il palito! Oh! E' parte! E' parte, è parte! E' parte! Tranquilla, tope! Vove, vove! Oh, vabbè io, vengo uno! E' per tutto! Intervento corretto. Pani stas. Pani, come on. Sì, sì! Ehi dal gol del 1 per l'intervento da paura. Che bello, che bello! 30 secondi al termine del primo tempo. Ehi, il portiere. Andalus! Ehi, rascate parla! 90 secondi al termine del primo tempo. Che bai, rsiao! Ehi, ritorni al primo tempo. Ehi, rivera, rsiao! Sì, vabbè, vabbè, vabbè. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.